Ciao, sono Giuliana, faccio parte dell'associazione Canto per Passione. Il mio pezzo è Come Foglie di Maricariano. Quando parte, se riparte, è un inverno che c'è via, allora come spieghi questa maledetta nostalgia? Mi permane come voglio, di cadere al tappeto, questa vuoi un po'. All'aspetto che ritorni l'illusione di un'estate che non so Quando arriva e quando parte, se riparte.